se state ricevendo troppe notifiche via email di quello che accade nelle classi virtuali vi basta disattivare le notifiche oppure personalizzarle cliccate sul menu scorrete fino in basso e troverete l'opzione impostazioni qui potete scegliere di disattivare completamente le notifiche via email oppure potete personalizzare le notifiche in base alle vostre esigenze potete anche scegliere di ricevere delle notifiche solamente per alcuni corsi e di lasciar perdere le notifiche che vengono inviate per altri corsi